Nello scorso episodio di Pokémon Spada, l'isola solitaria dell'armatura In questo episodio di Pokémon Spada e l'isola solitaria dell'armatura Buongiorno a tutti amici miei e bentornati sul mio canale, io sono Furobintendo E oggi siamo tornati su Pokémon Spada, l'isola solitaria dell'armatura per fare il nostro settimo episodio Prima di iniziare però, sigla! Allora, in questo episodio siamo tornati su Pokémon Spada, l'isola solitaria dell'armatura In questo episodio andremo a fare, carissimi, il torneo limitato Allora, ho scelto come caratteristica Eh sì, allora vai Il tipo di Pokémon che vuoi affrontare alla prova Voglio provarlo con il Drago Allora, Drago dove sei? Eccoti qua Dunque Vai, questa squadra qua Facciamo mettere un massimo C'è almeno C'è almeno un Pokémon non ammesso Perché non posso mettere Ah, forse per il Gigamax, forse Ah, acciaio No, non acciaio, non acciaio Ok, Drago Ok, perché quello di prima non andava bene? Boh, va bene, vai E dai, su Allora ci metto Appletan Appletan Vediamo se va bene Ah, forse perché era tipo Era perché è tipo volante Non è tipo Drago Ok Quindi bisogna avere proprio il tipo Inizia la prima lotta Pronti? Via Dunque Iniziamo Ma andava sciarpito Ma non è tipo Drago Ma Se l'agra così a volte Ma Si Perfetto Ho beccato il tipo Buio La mia sfiga mi perseguita proprio A posto Ho beccato il tipo Buio con il tipo Psico La mia sfiga mi perseguita in queste cose Allora direi subito di cambiare E a mettere E a mettere Appletan Vai Direi a questo punto Vai Allora Non è che sono sempre gli stessi Però Sempre gli stessi Però comunque bisogna stare un po' attenti Sgranocchio Spero che non mi faccia troppo Ok Speriamo un po' meno Ma va bene Lo stesso vai Acceleratore Aia Questo potrebbe fare male Lotta Facciamo acido malico Vai Il Gigamax Preferisco risparmiarlo dopo Non morire Nah Ok Ce l'ho iniziato male Tanto per dire Ok ci riprovo Vai Stavolta manda Wishcash Stavolta Ho messo Appletan Quindi ok Ho fatto bene Perché se avessi messo altri Sarebbe stato un po' problematico Dunque Lotta Facciamo Acido malico Vai Drago danza Ok Si busta Vero Si busta Vai Vai Fai acido malico E' perfetto L'ha shottato Perfetto Runerigas Spero di avere mosse Super efficaci Ok Acido malico E' super efficace Perfetto Eh Però non l'ha shottato Eh Ombra notturna Ok il danno è normale Perfetto Eh no dai Lo cura pure Ah no ok Non l'ha curato Ok perfetto Ok di nuovo acido Proviamo un altro Questo Acido Va beh Morto si è morto Allora poi abbiamo soltanto due possibilità di curarci E direi di farlo L'Ika Rock Ok Ho fatto proprio bene Allora a mettere A mettere questo tipo Mamma mia Va di terra No non mi conviene Acido malico Sempre vai Prana Ok non dovrebbe farmi troppo Eh non dovrebbe farmi troppo Disse lui Acido malico Vai Vai Un bel po' male Per favore Ok Posso curarmi O non posso No la bacca Cribbio Ok qua mi sa che mi conviene Per forza cambiare Andiamo Proviamo a mandare Dragapult Forse riesco di più Vai Vai Dragapult Preferisco Ok Fran Ok Ci ho visto bene Forse Sì ma non mi togliere Tutta sta vita Però eh Lotta Facciamo Drago Frecce Dovrebbe fargli male In teoria Vai Prana Puoi evitare di shottarmi Per favore Ne mi ha shottato Ovviamente Costituisci Vai Dio mio Lotta Facciamo Vortex Palla Però non sarò mai Abbastanza veloce Quindi vai Contropiede Puoi evitare di shottarmi Per favore Ok almeno Non mi ha shottato Almeno Vai Vortex Palla E muori male Ok Perfetto Ecco E' il primo Questo qua Era solo il primo Pensate come saranno gli altri Eccellente 3PL Continuo a lottare Vuoi rimettere in stessa squadra Ancora due volte Rimetto in stessa squadra Il problema è che Seguiamo la seconda lotta Vai Via Io lo so Sinceramente spero che non sia troppo dura Ma sharna Che c'ho davanti Apletan sempre Ok Spero che sia tutto super efficace Il problema è che è tipo folletto questo Mamma mia Lotta C'ho qualcosa di super efficace C'ho l'acciaio Lo spettro qua Ok Provo a mandare draga Pulto Soltanto che se mi fa una mossa folletto Sono leggermente fregato Oddio Spero di farcela Distorzone Ok almeno Spero che non mi faccia male Lotta Retromarcia No facciamo spettro tuffo Dovrei fargli male in teoria Badiglio Ouch Ok almeno Non mi assopire subito almeno Vai Spettro tuffo Ok vai Campo psichico Almeno non mi farà male Spero Spettro tuffo vai Uccidilo E non l'ha ucciso Ovviamente Ma perché ste bacche Dovete tagli Dio mio Dio mio No cribbio Non posso manco usare strumenti Mannaggia Prova a mandare Duraludon Però non lo so io Vest'energia Ma perché mi devono fare così male Dio mio Adesso mi farà male Adesso mi farà male Che cribbio Però dai Puoi evitare di farmi troppo male Per favore Ok 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 Stavolta ce l'ho fatta a fare il primo round Senza mandare cappare nessuno Perfetto Perché stavolta ho avuto fortuna E non E non mi ha falso nessuno Di super efficace Sul leo spettro Quindi Vai Ok Quindi stavolta non devo curarmi Ok Allora si vai La prossima è basta Ok Seconda lotta Vai Let's go Galvantula Ok Spero che non sia Che non abbiamo Sopra efficaci Vai draga Put Lotta Ok Non ho niente di super efficace Va bene Facciamo drago fresh Sperando che lo mando giù Galvantula Per fortuna drago pull È molto veloce Quindi vai Ok Gli manca poco Vai Ora spero che Rete vischiosa Dimmi che non è Dimmi che non mi fa niente di drastico Ok Drago furia Vai Figo attacco Ouch Ecco Lo sapevo io Non evitare l'attacco Ok Perfetto Vai Via Galvantula Luna Oddio Lunaton Ok Spettro è super efficace Quindi vai Spero che Ok Sono più veloce Perfetto Forza lunare Ok Per fortuna L'ho evitato Vai Al momento Drago pull Draga pull È la mia unica speranza Al momento Perfetto Perfetto Alla prossima round Tanto per dire Kuro Tanto per dire Sandakonda È solo tipo terra Però Spero che non abbia Niente di troppo problematico Pokémon Eh qua Mi tornerebbe utile L'acido malì Ma pazienza Poi mi curo Dopo questo Facciamo Drago frecce Va Ok Per fortuna Sono più veloce io Ne Quanto Io ho fatto poco Mamma mia A questo punto Facciamo Dynamax Va Dynadragone È tanto la stessa cosa Quindi vai Mamma mia Quanto gli fa poco Mamma mia Arrotola Ok Ma cosa si busta La difesa Che cacchio L'attacco E la difesa Sì ok Ottom Boh Proviamo a fargli Dynaset Ma non so Oppure Dynavuoto Posso provare a fargli Dura a morire Senta Conda Ma niente Non la busta Ciò E niente Va bene Ne userò Ne userò Un altro Vai Mando lui Va Che c'è acido malico Che è super figace Anche se vabbè Gli è rimasta poca vita Vai appletan Ho bisogno che dragapulte Stia bene Ho bisogno Lotta Acido malico Vai Per favore Potreste evitare Di uccidermi Ok Almeno non mi ha ucciso Sti gran cavoli Sti gran cavoli Muori e basta Acido malico E crepa male Se andaconda Perfetto Adesso mi furo Non me ne frega niente Cioè Impeccabile Ok Eccellente Altri 3PL Perfetto Vuoi lottare? Rimetto in sesto Alla squadra Ok Terza lotta Ci manda Ok Spero di non avere Troppi problemi Vai dragapulte Lotta Facciamo spettro tuffo Visto che è super figace Vai Come fa a essere più veloce Lui Sbarato Che ha fatto? Che mi ha fatto? Aiuto Spettro tuffo Ok Almeno per fortuna Riesco a colpirlo Vai Divinazione Ma Ma cosa? Spettro Ok Non ho capito Cosa ha fatto Lo swobat Ma va bene Vai Ok E uno Via Su Starmi Spero che Non abbiamo Se folletto Starmi Tanto però Lo spettro è sempre utile Quindi vai Geloraggio Ouch Non mi shottare Un punto vita Oh mammina mia Ok spero che Spettro tuffo Lo uccida Spero Chi so Aspettava che aveva Geloraggio Io no Sì sinceramente Crepa Ok ha crepato Bene Non pensavo che Qualcuno mi avrebbe Shottato Provo a mandare Duraludon No aspetta Sì dai Duraludon Dai Sperando che non abbia Pokémon fuoco Pokémon terra Pokémon roccia Drapion Ok Fiuff Ho fatto bene Mamma mia Credo Lotta Eh Drago Pulsar Vai Sgranocchio Ok Spero che non mi faccia Troppo Ok Fiuff Drago Pulsar Vai Mandalo quasi Su per favore Ok Metà vita Che ha fatto Lotta Drago Pulsar Sempre Granocchio Ok mi fa Mi fa arrivare A metà vita Credo Sì Poco meno Di metà vita Vai Drago Pulsar Uccidilo E perfetto Bene Chi sarà l'ultimo Ok Bene Fiuff Era l'ultimo Il problema Adesso È che non ho Drago Puls Quindi devo cercare Di resistere Eccellente Continuare a lottare Continuare a lottare Per fortuna Per fortuna c'ho L'erba davanti E lui è tipo acqua Solo coincidenze Eh Io non credo Ma questa battuta Ha finito di far ridere Tanto tempo fa Quindi vai Lotta Acido malico Vai let's go Vede in puntura Cacchio Ok non mi ha ucciso Meno male Però mi ha avvelenato Bestia Acido malico Ok Per fortuna L'ha ucciso Fiuff Mi ha avvelenato Però Dannazione E mi fa pure Tanto male Ok Tutti quanti acqua Se finora è acqua Va benissimo Acido malico Il problema È che lui sarà Più veloce Probabilmente Lo sapevo Bora Ecco adesso Mi uscite Cacchio Niente L'unica cosa Che posso fare Adesso è Sfruttare Sfruttare L'amp È sfruttare Il poco Di Duraludon Devo usare Il suo Il suo Dynamax Sperando di farcela Lotta Dai Dai una dragona Vai Mamma mia Che ansia Di vivere Yeah Duraludon Spero di Spero di Farcela Ok Più Grandissimo Che l'hai evitato Dai una dragona Vai Muori Ti prego Ok È morta Kingdra Perfetto Fiuff Adesso Chi è l'ultimo Ti prego Nessuno di troppo Complicato Per favore Sysor Spero di Farcela Spero Lotta Crebio Tutto poco Efficace Cacchio Eh mi sa che Non ce la facciamo Di questo passo Bestia Ti prego Non mi uccidere Ti prego Non mi uccidere Corbice X Ti prego Ok Ok Fiuff È poco efficace Perfetto Fiuff Vai un'altra volta Dai una dragone Posso resistere ancora Vai Se usa sempre Questa mossa Vai Ok Poi mi manca Su un colpo Ti prego Non mi uccidere Non mi uccidere Ti prego Ti prego Non mi uccidere Ok Farbice X Perfetto Ok Forse abbiamo vinto C'è il cuore Che mi batta a mille Eh però Sono tornato piccolo Diamine Cioè Sono tornato normale Vai Vai drago full Sperando di farcela Ma dovrei in teoria Vai Crepa Ok È crepato Bene Siamo all'ultimo round Bene Tino a lottare Rimetto in sesto la squadra Vai In teoria questa qua Dovrebbe essere l'ultima Vai Mamma mia Che ansia di vivere Tenta cruel Ok C'ho dragapult Vero si Lotta Faccio Facciamo così Faccio un retromascia Così Così E poi posso cambiare E mettere qualcuno Di super efficace Cioè Così poi posso mettere Cosa Come si chiama Apple bat Apple stun Ok Ok Qua è Batti terra E porta Va bene Ok Cosa usi Vento gelato Porco cane Morto Ok Mi fa poco Per fortuna Perché ti Rimetti la vita Boh Batti terra Vai Deleno croce Cacchio Non mi uccidere Ok L'importante è che non mi ha ucciso Vai Batti terra Chi se ne frega Vai Speravo di più Però Mannaggia Ma perché ti curi Ma perché ti curi Oh mamma mia Veleno croce Non me ne ha effetto Su di me Fessacchiotto Lotta Facciamo un Drago pulsar Vai Decisamente meglio Brutto colpo Grande Vento gelato Non dovrebbe farmi troppo In teoria Perché sono anche Tipo acciaio No ma ha fatto Praticamente lo stesso Eh Lui si cura ancora Non so per quale motivo Lotta Non fate coda drago Ve lo dico Non fate coda drago Perché se no Potreste mentirvene Ok Poco efficace Ma perché ti curi Oh Dov'è il mio attacco E crepa male No No E dai Non resistere Questa è una cosa Che mi dà fastidio Non avrei dovuto Tenere in campo Durale Dormisa Vai Crepa male Tentacrull Oddio Do un sparse Ora spero soltanto Che C'è qualcuno Di super efficace Per favore Dragapult Quanti pokemon Gli restano a sto tizio Ancora due Mannaggia Provo a usare un Provo a usare un Vortex palla Anzi no Provo a usare un Dynamax Si fan prima Vai Dynametallo Vai Ok sono più veloce io Grazie al cielo Ok metà vita Dai Posso farcela ancora Più o meno Drago furia Ouch Ok Lotta Dynametallo Sempre vai Devo andare per questa strada Altrimenti Non resisto Vai E perfetto Vai Il tipo drago Al momento È quello Che mi È quello Per il quale Mi fido di più Al momento Credo Vai Ok Chi ha l'ultimo Butterfree Ok Contro Butterfree In teoria Dovrei farcela Usa un die Una dragone Vai Contro Butterfree Sostituto Che vuol dire Vai Cosa ha fatto Non ho ben capito No Mannaggia A lui Mi ha fatto fregare I punti Maledetto Neh Recuperà pure vita Mannaggia A questo Ok Vai Ritorna normale Lotta Di nuovo Facciamo un Drago Pulsar Normale Va Tifone Spero che non mi faccia Troppo Spero Cacchio Mi ha ucciso Bestia Facciamo uno Facciamo un drago frecce Forse gli faccio qualcosa Vai Tanto sono più veloce Quindi vai Sì Alla faccia Alla faccia Gli faccio di più Bene Abbiamo vinto Credo Vai Ammirevole Eccellente 20PL Niente da dire Sulla tua abilità Con i pokemon Di tipo Drago Ti conferisco Che questo premio Per il tuo Incessante impegno 30PL Ancora Vuoi continuare a lottare No Mi ritiro Grazie mille E questo era il quanto Va bene amici miei Spero che il video vi sia piaciuto Come dico sempre Iscrivetevi Mettete mi piace Lasciate tante i commenti È stata dura comunque Mamma mia Pensate che questo qua È il tipo drago Che il tipo drago Fa più o meno Effetto normale Quasi a tutti Pensate se mettevo Qualcos'altro Comunque Spero che il video vi sia piaciuto Come dico sempre Iscrivetevi Mettete mi piace Lasciate tanti i bei commenti Iscrivetevi anche A mia pagina Instagram E Twitch ovviamente Che trovate sotto La descrizione di questo video Attivate la campanella Condividete i miei video Sui social E noi furabbiotti Ci rivedremo Presto Miau E noi furabbiotti 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 E noi furabbiotti